Buongiorno a tutti e a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della rubrica tra le silenziose carte anche in questa puntata ci occuperemo della fucilazione di rovetta la fucilazione di 43 militi dell'attagliamento avvenuta al cimitero il 28 aprile 1945 questa puntata sarà divisa in tre parti nella prima parte affronteremo la fine dell'attagliamento nella seconda ci sarà un approfondimento di angelo vendotti sul processo all'attagliamento e infine proveremo a ricostruire il 27 il 28 aprile 1945 passo ora la parola ad andrea pioselli per la fine dell'attagliamento la fucilazione di rovetta è in realtà solo uno degli episodi che videro coinvolti diversi reparti o gruppi di soldati dispersi della divisione in cui si sostanzia la fine dell'attagliamento sono episodi che si svolgono in un arco di tempo abbastanza breve tra il 25 aprile l'inizio di maggio in un'area geografica abbastanza circoscritta la valtellina la val camonica la val di scalve ma che sono di segno molto diverso occupiamoci innanzitutto di quello che può essere considerato il nucleo fondamentale della divisione comprendente sicuramente il 63esimo battaglione e la struttura di comando compreso lo stesso zuccari il comandante di tutta la divisione questo nucleo della divisione tagliamento per quasi tutto il mese di aprile fu impegnato in una grande battaglia contro le forze partigiane ed esattamente le fiamme verdi e cioè la battaglia del mortirolo una battaglia molto importante perché l'attagliamento combattendo a fianco degli alleati tedeschi mirava a liberare dalla presenza partigiana il mortirolo e rendere così sicura una delle principali vie che tedeschi avrebbero dovuto usare per ritirarsi verso il reich e cioè la strada statale 42 della val camonica e del passo del tonale all'inizio di aprile l'attagliamento fu attaccante ma verso la fine di aprile si trasformò la sorte della battaglia perché l'attagliamento fu costretta posizione di difesa fu intimato a zuccari di arrendersi ma zuccari rifiutò riuscendo insieme ad un nucleo di uomini e di soldati a fuggire verso il passo del tonale la fuga di zuccari si arrestò ai piedi del passo del tonale dal versante trentino cioè arrivò di trento quando fu fermato dal cln dai partigiani locali che se imposero a zuccari ai suoi di deporre le armi li lasciarono poi liberi e questo l'ultimo avvistamento per molto tempo in italia di zuccari si suppone che spogliato degli abiti militari passò il confine svizzero di alì vicino e poi poter far perdere le sue tracce di migrare in argentina oppure altre fonti sostengono che zuccari ancora alla fine del 45 fosse in italia e tra l'altro attivo nella riorganizzazione di una struttura neofascista che comprendeva molti reduci della divisione che aveva comandato sta di fatto che nel 1952 si apre di fronte al tribunale di milano un processo contro zuccari ed altri ufficiali emiliti dell'attagliamento il processo si conclude con la condanna all'ergastolo di zuccari vale la pena leggere un estratto del dispositivo della sentenza perché riassume in maniera estremamente sintetica qual era stato il senso di tutte le operazioni militari condotte dall'attagliamento queste righe sono tratte dalla sentenza del tribunale di milano che non zuccari all'ergastolo zuccari condannato per avere dal settembre 43 il maggio 45 in territorio dello stato italiano con azione diretta o con ordini e distruzione ai propri dipendenti commesse fatti intesi a favorire le operazioni militari e disegni politici del nemico a nuocere all'operazione delle forze armate del legittimo stato italiano e a meno mare la fedeltà dei cittadini allo stato stesso partecipando alla lotta contro i partigiani attuando e facendo attuare anche contro le popolazioni civili rastrellamenti sevizie uccisioni saccheggi incendi e distruzioni sequestri di persona e arbitrarie perquisizioni sentenza molto precisa e dura che riguardava più di 60 episodi specifici ma zuccari non scontò mai un giorno di prigione tanto che lui e i suoi commilitoni fecero ricorso contro questa sentenza e dopo un mit processuale piuttosto lungo nel 1962 furono amnistiati per cui zuccari potè ritornare in italia dall'argentina dove si era rifugiato e passare indisturbato il resto della sua vita altri reparti invece parlo soprattutto di quelli distanza nella bergamasca in val di scalve non ebbero una fine così pacifica così semplice innanzitutto parliamo di quel piccolo reparto che era a distanza al passo della manina in questo caso i soldati distanza alla manina si arresero agli emissari del cln di schilpario e si consegnavano restando prigionieri a schilpario altra storia riguarda un reparto riconducibile sempre alla battaglione camilluccia che invece era distanza a dezzo di scalve anche questo reparto il 25 aprile ricevette un emissario del cln di schilpario ma la reazione dei militi fu differenziata perché un gruppo del reparto di dezzo guidato dall'ufficiale medico giovanni scolari ricordo il nome perché è importante decise di arrendersi al cln di schilpario come già era successo per i soldati della manina e si recò a schilpario dove fu tenuto prigioniero la sera del 28 di aprile però quindi di lì a pochi giorni in paese a schilpario si seppe che un gruppo di sbandati della stessa divisione tagliamento provenienti dalla valcamonica dopo aver attraversato il passo del vivione si stavano dirigendo verso il paese immediatamente dopo in verità molte discussioni un gruppo di abitanti di schilpario che si erano organizzati che avevano organizzato le formazioni partigiane della zona avevano costituito il cln decise di risalire la strada in direzione del passo del vivione e di avviare una trattativa mirante a convincere i militi a cedere le armi di fatto la guerra era finita di questo gruppo propose si propose come intermediario proprio giovanni scolari il gruppo perché appunto col suo ruolo di ufficiale medico della divisione o comunque del primo battaglione poteva svolgere questo ruolo in maniera più convincente a detta di tutti questo gruppo si nella notte si avviò per la strada del vivione ma cadde in una imboscata tesa dagli stessi militi dell'attagliamento giovanni scolari fu uno dei primi a cadere insieme ad altri undici i militi inferirono anche sul suo corpo prima di ritirarsi di nuovo presso il passo del vivione fare perdere da lì le loro tracce giovanni scolari oggi è ricordato in una piazza di schilpario su una lapide insieme ad altre undici come martire della libertà infine c'è quel gruppo che ancora a distanza ad ezzo e di cui conosciamo abbastanza precisamente i percorsi perché uno di questi militi fernando cacciolo ci ha lasciato delle testimonianze questo gruppo di militi decise di non arrendersi di rifiutare la resa di non seguire quindi scolari verso schilpario ma di prendere la direzione opposta verso il passo della presolana con quale intento a sentire la testimonianza di cacciolo con l'intento di unirsi al reparto della sesta compagnia che era a distanza proprio al passo della presolana con l'intenzione di unire le forze e dalla presolana calare su bergamo e lì continuare la disperata lotta in verità questo gruppo di militi non trovano più nessuno al passo della presolana perché i militi della sesta compagnia il reparto della sesta compagnia che era alla presolana guidato dal sottottenente panzanelli nel frattempo aveva deciso di scendere verso valle alla testa di un corteo che vedeva all'inizio l'albergatore della presolana franceschetti con una bandiera bianca cacciolo i suoi compagni raggiungono questo gruppo abatto c'è anche una discussione perché è evidente che a quel punto alcuni militi hanno veramente l'intenzione di arrendersi mentre altri usano franceschetti e la sua bandiera bianca come un espediente per potersi aprire senza colpo ferire e senza subire conseguenze la strada sta di fatto che all'inizio i due gruppi si uniscono e giungono a rovetta la sera del 26 aprile è qui che si consumerà forse l'episodio più tragico di tutti quelli che costituiscono la fine della tagliamento il processo nei confronti di alcuni dei principali criminali dell'attagliamento ha luogo nel 1952 in agosto presso il tribunale militare di milano processo contro merico zuccari il colonnello il comandante della legione e altri 16 imputati la settenza sia nell'agosto del 1953 12 sono i condannati su 17 processati zuccheri e tre altri ufficiali dell'attagliamento sono condannati all'ergastolo tre altri imputati a 24 anni e poi scendendo a 22 1 22 1 20 1 18 i rimanenti a 16 anni di carcere già nel 54 ha luogo un processo un procedimento in appello e le pene vengono ridotte sensibilmente nel 1959 e nel 1962 le ordinanze escono una serie di ordinanze con cui venivano dichiarati estinti i reati per l'amnistia qui ci sarebbe ad aprire il lungo e anche terribile capitolo sull'amnistia che il guardia a sigilli togliatti promulgò e che fu anche una delle opportunità offerte ai militi dell'attagliamento per rientrare quasi senza aver pagato per rientrare normalmente nella vita civile bisogna dire che degli imputati condannati dei 12 su 17 che vengono condannati solo alcuni il comandante Oreste Menegozzo per esempio un maggiore che aveva fatto parte e aveva comandato addirittura la squadra che ammazzerà i 12 ai fondi solo alcuni scontarono alcuni mesi di carcere gli altri, la gran parte, erano già fuggiti come Merico Zuccari come Agostini, un tenente che si era distinto per atti di feroce e di brutalità gli altri, dicevo, avevano già raggiunto paesi ospitali non c'è ancora è vergognosa la vicenda che riguarda Merico Zuccari dicevo, condannato all'ergastolo ma contumace, già fuggito la fuga era partita dal paesino del Trentino della Val di Nonrevoe e poi era riuscito a passare in Svizzera dalla Svizzera sempre in modo ovviamente clandestino aveva raggiunto Genova e da lì era passato in Argentina è vergognosa perché Zuccari riesce a sfuggire e con lui i peggiori uomini dell'attagliamento riesce a sfuggire alla pena dovuta a chi appunto aveva commesso crimini delle feratezza di quelli appunto compiuti da Zuccari e dai suoi uomini durante la battaglia del Mortirolo il comandante delle Fiamme Verdi Lionello Levi Sandri aveva proposto una sorta di cessazione degli scontri chiedendo che cessassero le rappresaglie contro la popolazione civile e Zuccari aveva risposto in modo altezzoso e altrettanto violento dicendo che le repressioni le violenze contro la popolazione sarebbero continuate fino alla vittoria vi voglio leggere la breve dichiarazione la breve risposta di Lionello Levi Sandri a Zuccheri cerchi pure di difendere i suoi padroni tedeschi ad attuare rappresaglie contro le popolazioni innocenti nessun milite dell'attagliamento sfuggirà alla punizione che lo attende vi diamo una sola parola vi giustizieremo tutti non fu il comandante Sandro a venir meno alla parola data furono i comportamenti successivi le connivenze gli atti chiaramente omertosi le protezioni arrivate da ogni parte che impedirono che venisse fatta giustizia Merico Zuccheri Merico Zuccheri tornerà in Italia nel 1959 a Montefano in provincia di Macerata al suo paese e solo la morte che avverrà lo stesso anno compirà in un certo senso la giustizia definitiva nei confronti di quello che possiamo tranquillamente definire un assassino e veniamo ora a considerare il 27 il 28 aprile 1945 tra Clusone e Rovetta per ricostruire il succedersi dei fatti dobbiamo intrecciare diverse fonti diversi archivi e diciamo subito che la ricostruzione che vi proponiamo ora si avvalsa soprattutto dei fascicoli processuali del lungo processo sulla fucilazione svoltosi dal 45 al 51 delle relazioni delle indagini svolte dal maresciallo guerrini della stazione dei carabinieri di Clusone di alcune importanti interviste in primis quella di Moicano concessa a vendotti nel 98 e le tre di Lanfranchi depositate all'archivio dell'ISREC e infine di alcune considerazioni rilasciate da Fernando Cacciolo ricordiamo che questa ricostruzione che vi proponiamo sarà fatta per giorni e per ogni giorno vi daremo una scaletta di fatti che problematizzeremo con l'evocazione di alcuni interrogativi che restano aperti ripartiamo quindi da un breve riassunto del 26 aprile 1945 a Clusone ricorderete Bepi Lanfranchi i suoi uomini arrivano in paese ma alla notizia di un possibile passaggio di una colonna tedesca Bepi porta i suoi uomini ad Ardesio a Rovetta si è andato formando il CLN ne fanno parte il Maggiore Pacifico il Parroco Don Bravi e il Capitano Mac che è lì sfollato e ha preso casa in via Fantoni 23 che diventa la sede del comando del CLN i militi dell'attagliamento si sono consegnati al CLN di Dier Rovetta dopo un discorso del Maggiore Pacifico verso le 20 e 30 sono portati da Don Bravi alle scuole dove la popolazione dà loro qualcosa da mangiare alle ore 22 i russi che avevano al seguito dei militari tedeschi in distanza al seminario si consegnano al CLN e tra le 23 e le 24 anche i militari tedeschi che erano rimasti asserragliati nel seminario dopo una sparatoria si consegnano al CLN nella notte sia a Rovetta ma anche a Crusone passa la colonna tedesca che imbocca la Val Borlezza e si porta su Lovere per riprendere la strada del Tonale 27 aprile 1945 Clusone la mattina al comando di piazza si consegna un milite fascista in servizio a Castro Francesco Farano alcuni partigiani lo riconoscono come uno dei fucilatori dei 13 martiri di Lovere e il Moicano ne ordina la fucilazione Torri Battista insieme a altri due partigiani lo prendono in consegna si dirigono verso il cimitero e quando il prigioniero cerca di fuggire Torri lo fredda verso mezzogiorno arriva a Crusone e Beppi con i suoi uomini Beppi ricorderà quando sono arrivato a Crusone la gente gridava vigliacco perché non gli fucili il momento era questo la gente del paese quando siamo arrivati in comune diceva bisogna fucilarli tutti sei un vigliacco se non lo fai a sera o a tardo pomeriggio al caffè commercio c'è una riunione e sono presenti Moicano e altri partigiani passiamo ora Rovetta non sappiamo cosa fanno i militi dell'attagliamento durante la mattina e il pomeriggio possiamo ipotizzare dalla relazione del maresciallo Guerrini che abbiano una certa disponibilità di movimento e abbiano consumato cibo e bevante nei locali del posto certo è che verso il tardo pomeriggio sera arrivano alcuni partigiani da castione entrano nelle scuole prelevano i militi li portano in una cascina appena fuori dal paese dove i militi passano la notte ed è qui che i militi dell'attagliamento sono derubati e picchiati dai partigiani passiamo ora a considerare gli interrogativi che rimangono non risolti il primo chi c'era alla riunione del caffè commercio un primo elenco di nomi viene stilato da guerrini nel 1949 e questo elenco integrato sarà riportato anche nella sentenza Moicano Zaverio Fornoni Modesto Seghezzi Battista Torri Don Poli il capitano Mac un certo Tartaglia di Treviglio sono tra i possibili presenti qual era lo scopo della riunione del caffè commercio è il secondo interrogativo per cercare di dargli una risposta dobbiamo intrecciare diverse piste elenchiamole la prima il maresciallo Guerrini è il primo a evocare nel 1948 la riunione al caffè commercio come possibile luogo in cui si è decisa la fucilazione e lo fa sulla base di quanto gli ha riportato Pietro Chiapparini capo squadra della Camozzi con il nome di battaglia lino ma Pietro Chiapparini ritratterà queste dichiarazioni in tribunale nel 1950 quando non farà più riferimento alla riunione al caffè commercio alla quale peraltro non aveva mai detto di avere partecipato Seconda pista gli uomini indicati come presenti e che sono interrogati durante il processo da Zaverio Fornoni a Don Poli al capitano Mac concordano tutti nel dire che alla riunione si è parlato dell'organizzazione del territorio e della distribuzione delle armi prese al seminario Terza pista Moicano a Bendotti nel 1998 nega con decisione che durante la riunione al caffè commercio si possa aver preso qualche decisione in merito alla fucilazione e passiamo adesso a considerare il 28 aprile 1945 a Clusone Chiapparini Pietro Lino l'abbiamo detto capo squadra della Camozzi all'incarico di portarsi con circa 180 uomini da Clusone a Rovetta Bepi parte per Bergamo non sappiamo l'orario della partenza per Bergamo di Bepi ma sappiamo che la sera sarà di sicuro di ritorno a Clusone e adesso portiamoci su Rovetta la mattina molto presto i militi rientrano nelle scuole sono fradici perché sulla strada che li riporta in paese dalla cascina dove li avevano portati i partigiani di Castione sono colti dalla pioggia alle ore 8 e 39 il Maggiore Pacifico e Mac partono per la Presolana per trattare la resa con i tedeschi Don Bravi è l'unico rappresentante del CLN in paese alle ore 9 Moicano e Zaverio Fornoni sono in via Fantoni 23 dove sono state deposte le armi sottratte al seminario ore 10 10 e 30 arrivano due o tre camion di partigiani si portano alle scuole e prelevano i militi uno Fernando Cacciolo riesce a scappare chiede di andare in bagno si butta dalla finestra e si ripara presso la canonica i militi a questo punto sono 46 sono portati nella piazza davanti alla chiesa c'è molta folla che vi si accalca e per loro stessa ammissione ci sono Don Bravi e Zaverio Fornoni insieme a Moicano ricordiamo che Zaverio Fornoni è il commissario politico della Camozzi e a suo dire è in piazza per verificare la presenza o meno di partigiani della Camozzi a dire di altri è lì per portare l'ordine della fucilazione non tutte le testimonianze concordano su questo passaggio dei militi in piazza che peraltro non è ripreso durante la sentenza è sicuro invece che i militi sono incolonnati per essere portati al cimitero e qui si forma il plotone di esecuzione il fuoco comincia alle ore 11 e dura per circa un'ora i militi sono fucilati a gruppi di 5 6 per volta 25 dietro al cimitero 18 sul lato ovest Don Bravi assiste i militi prima di essere fucilati 43 militi sono fucilati 3 si salvano per la loro giovanissima età e qui si aprono i tanti interrogativi che rimangono non risolti il primo da dove arrivano e chi sono i partigiani che giungono alle scuole per prelevare i militi anche qui tante piste da considerare prima ci sono diverse testimonianze che dicono che ci sono due o tre camion con uomini della Camozzi e alcuni della 53esima ma c'è anche chi ricorda la presenza di fiamme verdi venute da lontano dobbiamo ricordare che durante il processo Lanfranchi ma anche Fornoni e del resto anche Giovanni Brasi ricordano che in quel periodo un po' dappertutto ci sono molti armati seconda pista c'è l'importante testimonianza di Lino abbiamo detto caposquadra della Camozzi che in ogni sua deposizione senza mai ritrattare ricorderà il fatto di aver ricevuto l'ordine di portarsi da Clusone a Rovetta con 80-100 uomini terza pista ci sono le testimonianze dei quattro scampati dell'attagliamento che ricordano di aver sentito delle grida di essersi portati alle finestre delle scuole e aver visto tra due ali di folla urlante dei partigiani coi fazzoletti rossi avvicinarsi alle scuole una volta entrati di presentarsi come Garibaldini notiamo bene la presenza della folla urlante inferocita è molto forte nei ricordi degli scampati dell'attagliamento meno in quello dei partigiani se non del tutto assente altro interrogativo che non trova risposta chi diede l'ordine della fucilazione anche qui tante piste la prima durante l'istruttoria del processo si vanno formando almeno tre narrazioni a questo proposito quella del cnl che porta tutta la responsabilità sui partigiani della camozzi e in parte su quelli della 53esima quella dei partigiani che durante il processo evocano il contesto di violenza che si fa tutt'uno con la presenza di moicano evocato con insistenza però solo nella seconda fase del processo e abitato a dire il vero come unico responsabile della fucilazione innanzitutto da Don Zambelli cappellano della cabozzi e poi da Piero Radarelli comandante della divisione orobica GL che però non erano presenti ai fatti tale responsabilità viene evocata anche da alcuni partigiani presenti ma mai completamente assunta ricordiamolo dai comandi della camozzi terza narrazione che si crea durante il processo è quella dei giovani scampati e dei genitori dei fucilati che tutti sentiti nella seconda fase del processo i giovani insistono sulla presenza di partigiani comunisti mentre i genitori accusano gli uomini del CLN di Rovetta che sono stati incapaci di proteggere i militi che a loro si erano consegnati seconda pista di indagine Moicano a Bendò confessa di aver deciso lui la fucilazione e se ne assume la totale responsabilità è questa tesi che viene del resto anche assunta dalla sentenza nella ricostruzione dei fatti terza pista di indagine quella che propone Lanfranchi che nell'intervista del 1998 afferma se non erano lì i militi dell'attagliamento e se non c'era Moicano la cosa non avveniva è stato lui che ha imposto la sua imposto imposto non si può dire imposto ci ha proprio trascinato terzo interrogativo che resta aperto come era composto il plotone di esecuzione sappiamo che fin dall'inizio si impongono due nomi quello di Torri Battista e Gusmeri in Bortolo altri ne emergono lungo il processo ma ricordiamo che la prova o meno della presenza al cimitero viene o dalla confessione del testimone o dalle testimonianze portate dagli altri testi e su questo meccanismo si va costruendo durante il processo e con qualche fatica anche la lista dei sedici nomi di partigiani che risulteranno poi essere gli imputati del processo di Rovetta quarta osservazione quarto interrogativo che rimane aperto dove erano i comandanti partigiani durante la fucilazione è difficile stabilirlo perché su questo punto le testimonianze sono davvero diversissime e si annullano l'una con l'altra certo è che durante il processo si va affermando un fatto che per la prima volta è evocato da Don Bravi nel 1949 durante la fucilazione in fondo al viale del cimitero appare una macchina su questa macchina probabilmente ci sono i capi partigiani sicuramente c'è Moicano che raggiunto da richieste di grazia per i militi risponde sempre con frasi che ribadiscono la necessità di uccidere il nemico tanto di fronte alla storia appena passata che di fronte a quella che si vorrà costruire a questo punto ci sembra fondamentale ricordare che il 15 settembre 1945 viene spedita da Brescia una lettera anonima alla prefettura di Bergamo che denuncia la fucilazione dei 43 militi il 25 settembre i carabinieri di Clusone cominciano le indagini e l'11 luglio alla procura della Repubblica di Bergamo apre un fascicolo la fase dell'istruttoria finisce alla fine del 1948 ma è solo una prima fase perché il giudice visti gli atti richiede un supplemento di indagine il 12 febbraio 1949 i familiari sporgono i familiari dei fucilati sporgono denuncia presso la Corte d'Appello di Brescia la seconda fase del processo che inizia il 3 dicembre 1948 a questo punto si prende in carico anche la denuncia dei familiari e tra il 1949 e il 1950 vengono sentiti 40 nuovi testimoni ma non si riesce mai a sentire il momoicano che rimane introvabile il primo dicembre 1950 il Tribunale di Bergamo trasmette gli atti al Tribunale di Brescia il 19 gennaio 1951 il Procuratore di Brescia stende la requisitoria la sezione istruttoria chiude il processo con non doversi procedere perché la fucilazione sulla base del decreto luogo tenenziale è considerata un atto di guerra tali furono indubbiamente anche i fatti suddetti in quanto posti da partigiani contofascisti in conseguenza della lotta degli uni che in quel momento era ancora in corso e che cessò soltanto con l'instaurazione del governo militare alleato che nella provincia di Bergamo sappiamo essersi instaurato il primo maggio 1945 alcune osservazioni allora sul processo e sulla sentenza innanzitutto abbiamo rilevato una lunghissima istruttoria che si prende in carico anche la denuncia dei genitori dei fucilati del febbraio del 1949 ricordiamo però che il papà di quel Carlo Banci che abbiamo evocato nella scorsa puntata di ritorno dalla prigionia in India deposita un esposto in pretura ma soprattutto da Roma ma soprattutto scrive una lettera nell'aprile del 1946 a De Gasperi vuole attirare la sua attenzione sulla fucilazione e fare presente che il figlio è tuttora vivo risulta vivo all'anagrafe De Gasperi sollecita immediatamente il prefetto di Bergamo che si informa il 23 ottobre 1946 presso il procuratore della Repubblica diciamo allora che nel maggio del 1947 si registra ufficialmente la morte dei fucilati che fino a quel momento erano dati ancora per vivi nelle rispettive anagrafi aggiungiamo che tra il 10 novembre e il 12 novembre 1947 dopo una lunghissima trafila vengono esumati i corpi dei fucilati l'amministrazione comunale decreta l'uso di un lotto di terra dentro il cimitero per costruire un monumento al loro ricordo e il 5 settembre 1948 i resti dei fucilati sono portati al verano dove viene celebrata una messa e tenuto un discorso dall'Associazione Nazionale dei Combattenti e dei Reduci della Repubblica Sociale Italiana altra osservazione la sentenza definisce la fucilazione come fatto di guerra ma nello stesso tempo nella ricostruzione dei fatti ne da un'interpretazione che la legge come vendetta per quanto successo alla Malgalunga a Paglia e ai suoi uomini facciamo attenzione allora da una parte la sentenza assolve il CLN e indica come responsabile unico dell'ordine di fucilazione un uomo venuto da lontano un estraneo dalla collettività la cui identità resta vaga dall'altra introduce due contraddizioni che diventano macigni per la costruzione di una memoria della fucilazione la prima il termine vendetta definisce poco o male un'azione di guerra e non porta certo a mettere in buona luce il movente politico che pur la sentenza evoca per darsi una ragione della fucilazione la seconda contraddizione è nella storia della 53esima che la sentenza cerca la giustificazione di una vendetta per cui chiama però a rispondere in tribunale i comandi della Camozzi alla fine di questo percorso Rovetta ci appare come un nodo storico fondamentale ma di fronte a cui non riusciamo a darci delle risposte ma che giustamente riteniamo fondamentale perché ci dà a vedere Rovetta come un momento di riflessione cruciale sulla storia della seconda guerra mondiale se attribuiamo a Moicano la responsabilità della fucilazione stiamo dicendo che non solo Moicano era diventato il comandante della 53esima ma come diceva Giago Erini in una delle sue relazioni è comandante supremo anche nella zona di Clusone e ha finito per esautorare se non nominalmente nei fatti Lanfranchi che non ha più nessuna presa sui suoi uomini se invece proviamo a seguire Lanfranchi lavorando su quell'espressione siamo stati trascinati ritroviamo le tesi dei partiti la tesi che i partigiani esprimono durante il processo tesi che porta piuttosto a considerare il contesto in cui la presenza di Moicano quella dei militi dell'attagliamento quella di molti armati portano la guerra a fare un salto a diventare qualcosa di diverso rispetto a quella che era stata combattuta fino in quel momento e noi forse intravederne la voragine di violenza non più guerra per bande tesa al controllo del territorio e alla protezione della popolazione ma guerra civile che è totale perché o stai con quegli uomini o con quegli altri non ammette prigionieri perché è opposizione netta tra due significati della parola patria inconciliabili tra di loro non lascia spazio a cedimenti perché è la scelta fra un futuro da realizzare che non ammette contemporaneamente anche la realizzazione dell'altro e con questo non intendiamo mettere sullo stesso piano fascisti e partigiani ci sono troppo chiare le parole di Primo Levi tratte dai sommersi e salvati laddove Levi ricorda che l'oppressore e la vittima sono nella stessa trappola ma è l'oppressore è solo lui che l'ha prontata e fatta scattare e se ne soffre è giusto che ne soffra nella scia di Primo Levi intendiamo allora cercare di cogliere tutta la tragicità vissuta dagli uomini dalle donne della resistenza che si sono presi il diritto di usare violenza la responsabilità di portarne il peso contro un'Italia e un'Europa razzista violenta usurpatrice dell'altro in nome di un futuro che una partigiana diceva un futuro di cui scorgevamo all'orizzonte tra privazioni e devastazioni lo splendore futuro che non dimentichiamo ci è diventato il paese l'Europa democratica che ci è stata lasciata in eredità che ci sono che ci sono